Credo invece nel mondo dei suoni, della musica e delle armonie. Credo che ogni melodia, ogni tema, si mischia un altro e possa fondersi con esso. Come due vite che si incontrano e cercano di condividere i propri suoni armonici, per farli andare all'unisolo. Anche a me certi suoni gravi fanno un po' di paura, ma poi penso che anche loro fanno parte della melodia della vita, delle sue frasi e dei suoi silenzi. La musica La musica La musica La musica